Garruzzo che prende questo nome dopo il 76, perché voi avevate già il gruppo ma non vi chiamavate così, siete stati ospiti, avete partecipato a Sugarruzzo alla manifestazione del carnevale e poi avete scelto questo bel nome. Ma la settimana santa a Ghilarza ha due appuntamenti dei quali volevo parlare brevemente. Uno giovedì che è il lavabo, cioè il lavaggio dei piedi. Sì, come penso in molti paesi della Sardegna, anche da noi i riti della settimana santa sono ancora vivi e vissuti, quindi c'è il rito del giovedì santo del lavaggio dei piedi. Da noi per fortuna da qualche anno sono state ricostituite le confraternite, quindi ci sono i confratelli che partecipano a questa manifestazione, forse non è la cerimonia. Ecco, il parroco è il parroco che naturalmente lava i piedi a 12 confratelli. Esatto, simbolicamente lava i piedi a 12 confratelli. E i 12 confratelli fanno parte della stessa confraternita? No, a Ghilarza attualmente ci sono tre confraternite e i 12 confratelli sono rappresentativi di tutte e tre. Bene, adesso accompagnati dall'organetto di Carlo Boeddu, vediamo il gruppo Folk Sugarruzzo di Ghilarza in ballo e festa. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!